ho fatto noi telefonato stamattina ma stai rinfracciando una volta era un caso urgente ero per telefonare mio figlio tu mi hai montato con tutti questi ragionamenti e volevo una parola di conforto tu non ho telefonato più per accettare il tuo figlio hai capito? a piccino poco la televisione c'è la mia televisione se tutto va bene a te la chiedi a chi li lui non mi farei proprio non verrebbero me la credo o barbiere eeeh il suo barbiere oculto glielo può fare guardi certo che ci sono un mio figlio oculto che non può fare proprio il programma che il programma potrebbe essere anche carino ma esso non lo vuoi oculto amico invece te lo ho detto niente racconto dalla gente eh pareri della gente proprio che oculto è l'animo del programma se non fosse oculto il programma e che la gente trova molto ma anche dai ma anche dai ma anche dai